Buonasera a tutti, ma guardate che altre meraviglie tenevo nascoste. Guardate questi cuccioli deliziosi di taglia media contenuta, due maschietti. Lui è Lupin e il fratellino un po' più beige è Linus. Allora ricordiamo la loro storia, dove sono stati trovati loro? Sulle Cesine, con trada Cesine, la valle dell'abbandono, forse dai paesi di Mitrofi si passano parola perché ci passano da lì e vedono che ci sono tanti cani belli grassi, accuditi dalle volontarie e quindi pensano magari terranno anche loro. Ma dei cuccioli non si possono lasciare per strada. Prima di tutto sfrecciano le macchine, le moto, una maremmana è finita malissimo per essere stata presa in pieno da una moto che correva, quindi lasciare dei cuccioli significa proprio rischiare tantissimo che facciano brutta fine. E poi dei cuccioli così carini, non gli vogliamo dare la possibilità di trovare una casa? Come vedete loro sono già in una casa perché sono arrivati nel periodo in cui c'era la Parvo sia ai nostri recinti sia nel canile di La Terza. Loro sarebbero andati dritti nel canile di La Terza. E quindi niente, c'è stata questa possibilità di stallo casalingo e come vedete stanno super bene. Sono abituati a stare con gli altri cani, infatti il loro papà adottivo è Ciro, un incrocio breton, bravissimo, ecco, che gli insegna tutto. E loro sono venuti su socievolissimi, non sanno cos'è la paura, anzi amano il genere umano. E sono anche bravi, però non possono restare dove stanno perché qui ve lo dico sempre, quando c'è qualcuno che si offre per gli stalli, lo stallo deve rimanere disponibile. Se no ci sono cuccioli e cani adulti per strada che fanno brutta fine. Quindi non pensate che questi sono sistemati, anzi pensate un'altra cosa, che se crescono un altro pochettino li porteremo al recinto, tanto ormai hanno i due vaccini del primo anno e quindi possono andare tranquillamente nel recinto. Pensate che tristezza, da stare belli in una veranda, comodi, poi possono anche entrare in casa, pensate, a essere portati in un posto dove si sporcherebbero tutti quanti, quando piangono nessuno li sente. Insomma, perché non li adottate subito? Ma guardate che belli, hanno qualcosa alla lontana del volpino, però non immaginate il volpino, sì, nel DNA ci sta qualcosa, quel faccino. Ma verranno tipo lupettini e taglia futura, prevista, secondo noi 15-18 kg, non di più. Quindi immaginate. Ora, guardate l'Inus piccino, questo occhietto non è niente, non ce l'ha così, soltanto che ha fatto il bagnetto in telettatura oggi e gli ha andato un po' di saponcino negli occhi, ma lui ha due occhietti tutti belli. Poi ve lo faccio rivedere se non ci credete. Invece, lupen, il furbacchione, sta benissimo. Lupen è più bianco, più avorio e Linus è più beige. Anche l'altro orecchio di Linus si alza, non pensate. Quindi avranno proprio questo aspetto. Guardate che teneri. Fate un pensiero per loro, sono prontissimi per partire. Sono inseparabili, però capiamo che se non è possibile adozione di coppia, e facciamo andare prima l'uno, poi l'altro, vuol dire che quello che resta rimane con Ciro ad attendere il suo turno. Sarebbe bello se arrivassero due richieste in contemporanea, così li prepareremo, faremo lo zainetto a questi piccini per partire insieme, poi uno andrebbe da una famiglia e uno dall'altra. Comunque, cominciamo a sperare perché la gente sta rientrando dalle vacanze. Quindi, se in vacanza ha pensato di adottare, perché non portarsi a casa dei cuccioli così adorabili? Perché sani, belli, puliti, profumati? Adottateli. Ciao piccolini! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!